Buonasera e benvenuti a Flash News Italia e Mondo. Apriamo con la cronaca blitz dei carabinieri del ROS nel Messinese arrestati, mandanti ed esecutori di quattro omicidi. Vediamo. Operazione dei carabinieri del ROS che hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate di concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso. Le indagini si sono aggiovate del contributo di diversi collaboratori di giustizia attraverso mirate attività di riscontro condotte dai militari del ROS. Hanno consentito di ricostruire autori e movente di quattro omicidi commessi a Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo in un periodo compreso tra il 1997 e il 2001. Si tratta dell'omicidio di Giovanni Catalfamo commesso a Barcellona il 29 settembre 1998 che viene contestato a Salvatore Michale. L'omicidio di Domenico Tramontana commesso il 4 giugno 2001 a Barcellona, Pozzo di Gotto. Il delitto è stato oggetto del procedimento gota 6, ma in quella sede il giudice aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di Giovanni Rao, esponente di vertice del soddilizio mafioso barcellonese al quale l'omicidio viene adesso contestato. L'omicidio di Santino Bonomo scomparso da Barcellona, Pozzo di Gotto in provincia di Messina il 12 dicembre del 1997 con il metodo della lupara bianca contestato ad Antonino Calderone e l'omicidio di Stefano Oteri ucciso a colpi di arma da fuoco la sera del 27 giugno 1998 davanti all'abitazione della sorella a Milazzo da killer giunti a bordo di una moto. Il delitto viene contestato a Sebastiano Pugliafito, ex agente della polizia penitenziaria. Secondo la ricostruzione dei collaboratori, il movente sarebbe da attribuire al comportamento dell'Oteri che si sarebbe atteggiato a boss nella zona di Milazzo. L'operazione rappresenta, è scritto nella nota dei Carabinieri del Rosso, l'ulteriore progressione della manovra di contrasto che ormai da un decennio la procura peloritana e l'arma dei Carabinieri stanno conducendo contro l'articolazione barcellonese. Sicuramente l'espressione più rappresentativa e militarmente organizzata della mafia in provincia di Messina, tanto da vantare rapporti privilegiati con Cosa Nostra, palermitana e catanese. Passiamo alla politica, il governo italiano alla prova del caso 18, tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle. A proda, in giunta al Senato, la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini. Conte depositerà una memoria a nome di tutto l'esecutivo, assumendosi la responsabilità politica dell'atto. I pentastellati sono davanti ad un bivio, il sì al processo infatti rischierebbe di destabilizzare la maggioranza. Migranti, meno sbarchi nel 2018, ma aumentano i morti. Sei al giorno è quanto emerge dal rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 2.275 persone hanno perso la vita durante la traversata del Mediterraneo a fronte di 139.000 nuovi arrivi, il numero più basso da 5 anni. Parliamo ancora di migranti. Accordo europeo per la Sea-Watch, sbarco più vicino. Germania, Portogallo, Malta, Francia e Romania si sono dette disponibili a farsi carico dei naufraghi. Soddisfatta la Lega che commenta, l'Unione Europea costretta ad intervenire. Ponte di Genoa, blitz della Guardia di Finanza, aumenta il numero di indagati. Dieci nuovi nomi finiscono nel mirino degli inquirenti, perquisizioni nelle sedi di Aspi e Spea. Maxi sequestro di cocaina nel porto di Livorno. La droga del valore di 130 milioni di euro era nascossa a bordo di una nave tra i sacchi di caffè. Pensioni al via Quotacento, l'Inps spiega come fare. È stata infatti diffusa la circolare dell'Istituto di Previdenza che contiene chiarimenti sulle nuove disposizioni in tema di pensioni. Istat risale la fiducia dei consumatori dopo il sì alla manovra. In calo invece la fiducia delle imprese. Siamo agli esteri, nuove elezioni in Venezuela. Maduro apre a metà. Il Presidente si dice infatti disponibile ad organizzare un voto anticipato per le legislative, ma le presidenziali saranno nel 2025. Brexit, May incassa l'appoggio dei comuni. Gelo con l'Unione Europea. Il Parlamento dà mandato alla Premier di riaprire la trattativa, ma Bruxelles conferma la linea dura. L'accordo non è rinegoziabile. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.